E anche quest'anno a Toronto si terrà l'ICFF, l'Italian Contemporary Film Festival. Lo scorso anno noi di Patrimonio Italiano TV presenziamo fisicamente la conferenza stampa che quest'anno si è tenuta in videoconferenza, così come l'edizione 2020. Dal 29 novembre all'8 dicembre si terrà infatti l'ICFF at Home. Si potrà accedere a lungometraggi, portometraggi e documentari italiani più recenti, accompagnati da domande e risposte dal vivo, messaggi dei registi ed eventi virtuali gratuiti, in tutto comodamente da casa. Sul sito di ICFF sarà possibile acquistare un Festival Pass che per 30 dollari darà accesso alla collezione completa di film per la durata del festival oppure i biglietti per il cinema singolo a 6 dollari e 99 ciascuno. Tutti i film sono disponibili in italiano con sottotitoli in inglese ed alcuni film avranno sottotitoli in francese per i telespettatori del Quebec. Lo streaming è già bloccato in Canada. L'Italian Contemporary Film Festival aprirà il 29 novembre fino all'8 dicembre. Sarà una manifestazione diversa da quella che solitamente abbiamo nei cinema di tante città. Arriveremo invece in tutto il Canada attraverso una versione online del festival. Grazie ai nostri partner che sono prima di tutto IC Savings e poi Rogers Cable e il Tolonto International Film Festival infatti riusciremo ad arrivare in tutte le case dei canadesi. Tanti film, riconosceremo ovviamente una grande importanza al grande maestro Federico Fellini di cui quest'anno si celebra il centenario dalla nascita. Lo faremo con due documentari in anteprima internazionale e poi due film in una sorta di retrospettiva su di lui in sala a Vancouver. Tanti appuntamenti poi a ICFF Architettura dedicato a Renzo Piano e poi avremo film commedia anche come Checco Zalone che ci presenterà qui in Canada Tolo Tolo. Un film bellissimo è quello di Volare, di Salvatore. Insomma ci saranno tanti appuntamenti per celebrare la cultura italiana qui in Canada e sono contentissimo che Patrimonio Italiano ci sta seguendo in questa iniziativa.